Abbiamo avuto un'ottima affluenza di pubblico, oltre che di grossi professionisti di tutta Italia. Il topic è stato gli interventi in diretta, nel senso che abbiamo operato qui in sala operatoria e abbiamo trasmesso le immagini all'Ariston, che era la sede del convegno. Non solo dibattito, ma proprio far vedere effettivamente quello che si realizza nel nostro ospedale. Sì, effettivamente bisognava in questo momento, così importante come lei ben sa, per l'ospedale di Vallo, dare un'immagine, oltre che positiva, anche molto propositiva. Nel senso che si parla, si dice, si fanno mille chiacchiere, o magari si dicono delle cose giustissime, però noi abbiamo dimostrato, col nostro lavoro, col nostro impegno, con la nostra dedizione, che c'è una parte dell'ospedale che, continuando a lavorare in maniera seria e in maniera corretta, senza fare chiacchiere soprattutto, con i fatti, cerca di portare avanti questo ospedale da moltissimi anni. Non parlo naturalmente esclusivamente di me, ma parlo anche di tutti i miei infermieri, degli infermieri della sala operatoria, del primario della sala operatoria, di tutto un gruppo che ha permesso di espletare un convegno in una maniera veramente eccezionale. Abbiamo avuto il plauso di tutti. Di tutti a questo convegno rappresenta il presidente della SIC, della Società Italiana di Chirurgia, della società più importante di chirurgia d'Italia, della COI, dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri, e di una serie di altre persone che sono intervenute. Abbiamo dato effettivamente un'immagine seria, precisa, positiva e propositiva, ripeto ancora, dell'ospedale stesso. Ristabiliamo un po' di serenità, ecco, forse tutte queste chiacchiere, anche denunce, che arrivano dall'ospedale, non fanno bene prima di tutto, ha la stessa struttura ospedaliera e soprattutto non risolvono i problemi. Io sinceramente nella Chirel non ci entro, anche perché non sono capace, non faccio questo mestiere. Io cerco solamente col mio lavoro di dimostrare come fanno altri professionisti, ottimi professionisti di questo ospedale, che le cose debbono andare diversamente. Cioè dobbiamo continuare a lavorare, a produrre e a dare un'immagine positiva, soprattutto per i pazienti, perché questo ospedale è un ospedale dove si può fare tutto, completamente tutto. Si continua quindi a lavorare? Senz'altro, lavoriamo, siamo qui, oggi è 12 luglio e lavoriamo tranquillamente come se fosse un normale mese d'inverno o di primavera.